cari amici di total photoshop ben ritrovati sono massimo di aproma store anche quest'oggi siamo in studio con la bellissima amici che ci darà una mano a realizzare degli scatti interessanti abbiamo già visto in un video precedente la differenza fra i softbox profondi e non profondi quindi i softbox normali e di dip quest'oggi lavoreremo con il dip che abbiamo già visto nel video della volta scorsa e cercheremo di capire come utilizzarlo in modi diversi proprio per come proiettano la luce questi softbox e grazie ad alcune caratteristiche che hanno che ci offrono possiamo avere interessanti modi di modulare la luce per un uso ancora più creativo il softbox dispone di un doppio telo diffusore quello frontale che è quello che siamo abituati a vedere sempre ma la cosa interessante che se lo apro ho un secondo telo diffusore intermedio che in condizioni normali quando installato mi consente di avere una luce ancora più morbida ancora più omogenea possiamo ovviamente toglierlo e soprattutto utilizzando un softbox come il dip 100 o anche il fratello minore dip 70 che è molto pratico magari da portare in esterni utilizzando un softbox come il dip senza teli diffusori ho l'effetto di una grossa parabola molto concentrata che mi darà una luce molto dura con ombre molto nette e dei contrasti elevati la cosa interessante grazie ad una particolarità del sistema elinchrom ovvero un forellino porta accessori centrale proprio sulla parabola del flash grazie a questa particolarità io posso utilizzare dei deflettori anche questi li abbiamo già visti utilizzare con i softbox quadrati posizionati qua dentro per modulare un po la luce sia in termini di contrasto che eventualmente in termini di tono in questo caso utilizzeremo un deflettore silver esiste anche traslucido quindi anch'esso neutro ma con una resa diversa o un deflettore oro per scaldare un po la luce sulla modella proviamo a rimontare i teli diffusori partiremo con degli scatti fatti col doppio telo diffusore poi ne rimuoveremo uno li rimuoveremo entrambi e lavoreremo con il deflettore centrale per vedere come cambia la resa della luce e dell'illuminazione su micchi lavorando sempre con lo stesso softbox benissimo abbiamo rimontato il nostro softbox con il doppio telo diffusore l'abbiamo posizionato dall'alto per avere una luce appunto che vada ad illuminare dall'alto micchi decidiamo di scattare con un diaframma 8 proviamo ad eseguire una lettura esposimetrica sul viso di micchi ecco in questo caso abbiamo proprio una lettura giusta diaframma 8 ma decidiamo di avere il viso leggermente sovraesposto perché un softbox di questo tipo avrà una caduta di luce piuttosto importante sul fondo e sulle gambe quindi decidiamo di salire di uno stop e per farlo non andiamo ad operare sul flash che è in questo caso piuttosto scomodo piuttosto in alto grazie al nuovo Sekonic 478 con modulo Skyport Tailing incorporato posso farlo direttamente dall'esposimetro ho i tastini più e meno esattamente come sul telecomando Elinchrom ogni pigiata di tastino del touchscreen è un decimo di diaframma voglio salire di un diaframma quindi 10 pigiate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 intanto il bip del flash mi dice che è pronto per lo scatto perché ha raggiunto la potenza indicata proviamo a fare una misurazione per vedere se è vero che passiamo da diaframma 8 a diaframma 11 perfetto siamo pronti per scattare sei pronta micchi accendiamo la macchina diaframma 8 impostato sulla macchina mi raccomando quando lavoriamo con i flash da studio sempre la sensibilità iso in manuale non lasciateli in automatico eccomi che scattiamo con una luce sola quindi non abbiamo luci di schiarita cerca di tenere il viso piuttosto alto in modo da non creare ombre antiestetiche sotto sotto il mento grazie benissimo ecco sicuramente lavorando con un flash come le lc 1000 anche a bassa potenza come lo stiamo utilizzando ci dà dei vantaggi non tanto in termini di quantità di luce emessa probabilmente per fare questi scatti sarebbe sufficiente anche un delight ma ci dà la possibilità di avere un tempo di ricarica del flash fra un lampo e l'altro e l'altro molto più veloce quindi ci consente di fare degli scatti molto ravvicinati in sequenza a micchi mentre si sposta ecco vediamo questi primi scatti intanto vedi che abbiamo sicuramente una caduta di luce molto importante il viso ben illuminato perché proprio rivolto verso la nostra sorgente di luce c'è una sfumatura della luce verso il resto del tuo corpo e sul fondale abbiamo questo viso che si stacca proprio in modo molto importante dallo sfondo proviamo a togliere il telo diffusore lasciando il softbox ed il flash nella stessa posizione e vediamo come cambia questo effetto ok softbox nella stessa posizione abbiamo rimosso il telo frontale abbiamo lasciato solo il diffusore intermedio proviamo a fare una lettura perché sicuramente ogni telo di diffusione porta anche via della luce vediamo cosa succede prima avevamo misurato sul viso di micchi un'esposizione diaframma 11 adesso siamo a 16 quindi addirittura un diaframma ancora una volta regoliamo direttamente dal nostro touchscreen attendiamo il bip eccolo qui il flash è pronto vediamo se è vero siamo preferiamo controllare diaframma 11 stesse condizioni di illuminazione sul viso di micchi identica agli scatti precedenti passiamo a fotografare per vedere cosa succede ecco sentiamo come il fatto di lavorare con l'elch ci consenta di fare degli scatti quasi a raffica vediamo come cambiano gli scatti togliendo un telo diffusore ancora una volta abbiamo delle ombre molto nette il contrasto sul capo in pelle sul sul tuo viso eccetera è decisamente aumentato rispetto a quello delle foto fatte con con il doppio telo diffusore abbiamo una caduta di luce ancora più importante e possiamo a questo punto togliere anche il secondo telo diffusore per vedere come la luce cambierà ulteriormente ok siamo nuovamente pronti per fare qualche scatto ora stiamo utilizzando il softbox senza nessun telo diffusore abbiamo messo il deflettore centrale in modo da non avere proprio una macchia di luce concentrata che potrebbe magari darci dei riflessi indesiderati giusto per omogeneizzarla un pochino proviamo desiderio una lettura perché abbiamo tolto appunto un altro telo sicuramente la differenza ci sarà ma apparentemente più contenuta rispetto a prima infatti giusto quattro decimi di diaframma direi che possiamo prenderli per buoni senza senza cambiare l'esposizione la cosa importante che andremo a vedere sarà come cambierà l'ombra soprattutto sul fondo in questo caso stiamo lavorando con un softbox con un softbox che si comporta quasi come una grossa parabola quindi una luce molto secca con un'ombra molto netta passiamo agli scatti ecco guarda micchi stesso illuminatore stesso softbox il fondo ha una caduta dolce talmente importante che sembra quasi essere diventato nero comunque molto molto scuro le ombre sono molto disegnate sono molto evidenti il contrasto è molto è molto alto abbiamo creato un'immagine sicuramente più dura rispetto a quelle precedenti benissimo anche per oggi abbiamo realizzato qualche scatto sicuramente interessante grazie amichi grazie a voi arrivederci alla prossima puntata